Ciao a tutti, io sono Jessica e sono un'appassionatissima divoratrice seriale di drama asiatici. La mia principale piattaforma di divulgazione è TikTok e da quando ho cominciato dallo scorso luglio 2022 ho ricevuto un milione e mezzo di visualizzazioni. Ed ora sono qui per far entrare anche voi in questo meraviglioso infinito mondo. Il mio compito principale sarà quello di consigliarvi i drama più belli da vedere. Oltre a dirvi quali drama vi dirò anche dove vederli e le tre principali piattaforme che utilizzo io sono queste. Netflix, Vicky Rakuten e Rama Oriental Fansub. Netflix è ovviamente la piattaforma più conosciuta dove c'è bisogno di un abbonamento per vedere qualsiasi cosa presente. Vicky Rakuten invece è una piattaforma, anche questa streaming, che si scarica come una qualsiasi app su qualsiasi cellulare, pad, tablet e anche sulle smart tv, dedicata esclusivamente ai drama asiatici. Non c'è altro sopra. Vicky Rakuten, a differenza di Netflix, contiene un 40% circa di drama completamente gratuiti, mentre per sbloccare il 60% rimanente necessita di un piccolo abbonamento. Il catalogo Netflix conterrà circa forse 200 o 300 tra drama e film asiatici, mentre Vicky essendo dedicato esclusivamente a quello ne conterrà penso 2000 se non di più, quindi veramente è un mondo infinito. Ora vi parlerò invece di Rama Oriental Fansub, che come dice la parola stessa Fansub è un sito fatto da fan dei sottotitoli. Qui apro una piccola parentesi. Tutti i drama asiatici sono sottotitolati in italiano in lingua originale. Solo Netflix ne doppia alcuni in italiano, ma il mio consiglio è quello di lasciarli proprio perdere, perché è bellissimo entrare in questo mondo impattandosi direttamente con la lingua originale, che diventerà sempre più recchiabile e vi appassionerà tantissimo. Rama Oriental è un sito web completamente gratuito che alloggia all'interno di forum free. Di fansub ce ne sono veramente tanti, ma Rama Oriental è quello con il catalogo di drama completati più ampio in assoluto, con una varietà veramente grandissima. Rama Oriental è un sito gestito da ragazze e ragazzi di tutte le età con una grandissima passione per i drama asiatici, che gratuitamente, senza nessun scopo di lucro, sottotitolano i drama asiatici in italiano, rendendoli disponibili per noi utenti, che possiamo vedere anche in anticipo drama che in Italia ancora devono arrivare. Dedicano il loro tempo libero solo per soddisfare la nostra passione, che è anche la loro. Esiste da oltre 10 anni e al 2022 avevano completato e sono completamente disponibili sul loro sito oltre 320 drama. È il bello che ogni mese ne escono di nuovi. 5, 6, 7 drama al mese si aggiungono al catalogo infinito di Rama Oriental. Quindi tutto questo per dirvi che i drama che andrò a consigliarvi nei prossimi video sono su queste tre bellissime piattaforme. Apro un'altra piccola parentesi. Rama Oriental si ricerca su Google. Basta scrivere Rama Oriental Fansub e accedere al forum. Detto ciò, ora voi vi starete chiedendo perché dovreste iniziare a guardare dei drama che arrivano dall'Asia con la lingua originale che magari è anche terribile da ascoltare. Ora vi dirò perché i drama creano dipendenza. Credetemi che quando guarderete il primo da lì sarà la vostra fine. Io solo nel 2022 ho visto oltre 180 drama. Allora intanto vi dico, le nazionalità mie preferite sono i drama coreani, che sono i più famosi in assoluto. I drama cinesi, di cui parleremo a parte, i drama giapponesi e i drama thailandesi. Queste sono le mie nazionalità preferite. Sono quattro lingue completamente diverse tra loro. Infatti una volta che inizierete con una lingua, arrivare poi alle altre è tutta una questione di fare orecchio. Anche nel leggere i sottotitoli è tutta questione di allenamento. Credetemi, io ora sono in grado di leggere in un microsecondo e godermi anche la scena. Da quando ho cominciato a guardare i drama asiatici, le serie americane, faccio davvero molta fatica a vederle. Nonostante io ne abbia viste migliaia nella mia vita, una volta che si entra in questo mondo, non lo so, c'è qualcosa che crea dipendenza, c'è qualche droga nell'aria, perché veramente per vederne 180 solo nel 2022, credetemi che è tantissimo. Ora vi dirò quali sono secondo me i motivi principali per cui questi drama devono essere assolutamente visti e creano dipendenza. Il 90% dei drama asiatici sono composti da una stagione di 16, massimo 20 episodi, ben strutturati, con una storia completa, con un finale soddisfacente, a meno che non si tratti di un finale triste, perché ci sono anche quelli purtroppo. Quindi a differenza delle serie americane o di qualsiasi altra nazionalità, non devi aspettare 15-16 stagioni per arrivare a una conclusione, no, perché nel giro di pochi giorni l'hai conclusa e puoi passare ad una nuova storia. In pochissimo tempo puoi passare da un genere all'altro senza mai stufarti, quindi puoi vedere la commedia romantica, il drama storico, il thriller, l'horror, la commedia divertente. In pochissimo tempo hai spaziato da un genere all'altro e ti sei divertito. Seconda motivazione sono gli attori e le attrici di questi drama, che veramente hanno un livello di recitazione altissimo, perché sono in grado con solo con l'espressione, con gli sguardi, a trasmettere completamente quello che stanno provando in quel momento. E poi, dato che lavorano per generi sempre diversi, perché non è che un attore fa solo quel genere lì, passano dal genere romantico triste al genere storico, sono veramente bravissimi a cambiare il loro modo di recitare in base al drama che stanno preparando. Le emozioni che proverete guardando questi drama sono fortissime, hanno un modo di approcciarsi soprattutto all'amore e alla conquista romantica in modo completamente diverso da quello che siamo abituati a vedere nelle serie americane. Se nelle serie americane, nel primo episodio concludono già tutto, nei drama asiatici spesso un semplice bacio o il tocco di una mano arriva verso la conclusione. Qualche volta è in mezzo alla storia, quindi ottavo, nono episodio, ma credetemi che il cuore palpita in attesa di quel livello come non ha mai palpitato nella vostra vita. I drama sono pieni di cliché che fanno davvero sognare e ti cambiano proprio la vita perché inizi a guardare le cose con tutto altro occhio e soprattutto salgono un po' di livello le aspettative. Questi e tanti altri sono i motivi per cui bisogna iniziare a guardare i drama. È veramente un mondo che una volta che ci entri non riesci più a uscirne e dirlo così bisogna provarlo sulla propria pelle. Ora non resta che invitarvi a guardare i prossimi video per introdurvi a questo bellissimo mondo. Vi ricordo che se volete saperne di più in caso vi trovate sia su tiktok come jessievernola e anche sulla pagina instagram. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!